Buongiorno a tutti, oggi vedremo insieme come caricare i documenti delle mensilità successive alla presentazione del bonus nido sulla piattaforma dell'Inx. Ovviamente prima di iniziare insieme la procedura dovete avere a disposizione i documenti necessari a comprovare l'avvenuto pagamento, quindi posto ricevuto dalla banca, del bollettino postale o con la carta di credito come avete fatto e in aggiunta la fattura che rilascia l'asilo o una pietanza dove si evince gli importi che possiamo richiedere come bonus. Allora, primo passo collegarsi al sito dell'Inx, come si apre, si compila sul cerca il bonus nido, il sistema propone già bonus asilo nido e supporto, si entra, il sistema chiederà come accreditarsi con lo speed, si sceglie naturalmente l'ente che ve lo ha rilasciato, si compila i vari dati, che si è avuto l'accesso con speed, sul lato sinistro ci sono servizi online, bonus nido, dovremo andare a cliccare su allegati domande. Una volta scelto il servizio allegati domande, arriviamo alle domande che sono già state presentate, se l'avete presentata anche l'anno precedente troverete la domanda che risulta come stata domanda chiusa, altrimenti ci sarà quella che è stata accolta, che avrete appunto caricato precedentemente. A questo punto si può procedere con l'allegazione dei documenti, allora si va su Allega documenti di spesa by e si entra un'altra videata, dove a questo punto ci viene richiesto la possibilità di selezionare i mesi di frequenza, con un menu a tendina, si seleziona il mese che ci interessa, si dà il consenso dell'importo che dovremo andare a indicare successivamente con le virgole, naturalmente qui si ricorda che si dovrà inserire soltanto ed esclusivamente l'importo della retta, la mensa e l'imposta di bollo. Una volta indicato l'importo totale mensile, si dovrà selezionare il tipo di documento. Con il menu a tendina, il sistema propone bonifico bancario, bollettino postale, ricevuta e altri documenti, che saranno necessari per completare l'iter di caricamento del mese di frequenza per avere il rimborso. Si selezionerà a seconda di come avete eseguito il pagamento, per esempio la ricevuta di pagamento, che è 1, documenti, tra i numeri di documenti si inserisce tutti 0, poi compileremo la data del documento, quando avete appunto fatto questo documento, e a questo punto si apploverà l'attestazione del pagamento, quello che abbiamo scelto della ricevuta. Nella descrizione, inseriremo un breve descrizione di quello che abbiamo fatto, nel nostro caso, l'attestazione del pagamento di ottobre 2022. A questo punto si cliccherà allega e il sistema ci ricorda sempre che per poter completare l'operazione si deve sempre cliccare trasmetti. Naturalmente nel nostro caso, in questo caso abbiamo messo la ricevuta, adesso dovremo andare però a completare l'operazione, inserendo anche, sempre relativamente al mese che abbiamo finito della ricevuta, anche il tipo di documento che in questo caso sarà la quietanza di pagamento. Si ricorda che la quietanza deve essere combaciare con il soggetto che ha predisposto la domanda, altrimenti il pagamento non verrà eseguito dall'Inps. Andiamo avanti, sempre numero documento su T0, data della quietanza di pagamento, scegli il file per allegare, si allega la quietanza in questo caso, e anche successivamente alla descrizione scriveremo, in nostro caso ottobre 2022, estratto conto del pagamento per dimostrare che effettivamente è stato eseguito. Allega e arriviamo all'ultima fase, non abbiamo altri documenti da uploadare e quindi ricontrolliamo nella lista degli allegati da trasmettere se abbiamo caricato correttamente tutto, a questo punto possiamo cliccare trasmetti e abbiamo finito per quanto riguarda il caricamento della mensilità, nel nostro caso di ottobre 2022, per il bonus. Ripercorriamo brevemente la lista di quello che abbiamo presentato in questa sessione e vediamo che è tutto a posto, non ci resta altro che attendere il pagamento da parte dell'Inps. Se ti è piaciuto il video e anche se non ti è piaciuto, iscriviti al canale, seguimi, attiva le notifiche e se hai delle domande, scrivimi. Ciao!